Appuntamento abituale con il fact-checking, siamo insieme alla professoressa Simonetta Pattuglia della Facoltà di Economia di Tor Vergata, questa sera Matteo Renzi che è già passato dalle maglie del fact-checking, ormai più di tre mesi fa ci fu il confronto per le primarie di centrosinistra, torna questa sera. Ricordiamo professoressa brevemente che tipo di giudizi arriveranno? Noi non diamo giudizi politici, non entriamo nel merito naturalmente, diamo giudizi di vero, non vero e parzialmente vero in merito a fatti economici, fatti normativi, nessi causali comprovati da teorie economiche acclarate internazionalmente. E chi c'è a lavorare per dare questi giudizi? Noi siamo un gruppo di 21 persone, macroeconomisti, microeconomisti, giuristi, giuristi di impresa, giuristi pubblici e privati, economisti di vario genere.